... Nasce fisicamente a Pompei e artisticamente a Parigi. Vive ad Amalfi, ma il suo successo prende vita a Madrid. Frequenta l'Accademia Militare di Venezia, ma gli archi di trionfo li trova in Germania. Adora l'Italia, ma naturalmente anche l'estero. Canta con la propria voce, ma nei suoi dischi fa anche le altre voci maschili e femminili. Recita con la propria faccia, ma qualche volta ci aggiunge qualcosa. È un tipo speciale. È Pino D'Angio. Buonasera. Benvenuto, come stai? Ah, per me? Questo per incarico del Corpo Carabinieri di Mercato San Severino. Tuo grosso ammirato. Oh, grazie, grazie e ringrazio tutti i carabinieri di Mercato San Severino del pensiero, dell'omaggio e grazie anche a te per avermelo portato. Senti, tu hai sentito quello che ho detto di te, no? Sì. Internazionale. Allora, sei veramente un tipo speciale? Ma questo dovrebbe dirlo il pubblico. Io faccio cose per divertire la gente e mi diverto moltissimo a farle. Questo penso che sia già una cosa abbastanza strana. Senti, so che sei in torneo, in procinto, è cominciata come la tua... Sì, cominciamo praticamente il 25 e finiamo il 12 settembre in Italia. Poi ricominciamo il 15 settembre in Spagna e finiamo il 19 ottobre in Francia. Quindi proprio sei in Europa unita? No, solo tre. Beh, vabbè, ma insomma, la Germania come va? La Germania sta uscendo il disco adesso. Il Belgio ti vede in diretta, insomma, poi c'è, va bene, ci sono ancora dei paesi da visitare. In Inghilterra ci sei mai stato? In Inghilterra sì, penso che sia stato l'unico disco in lingua italiana pubblicato in Inghilterra, ma con l'idea, quattro anni fa, l'unico disco in lingua italiana originale. Bene, la canzone che ci fai ascoltare oggi è... Faccio un pulpurrì di tante cose messe insieme, qualcuna la conoscono, qualcuna no. Qualcuna no, benissimo. Vi lascio nel trasformismo, nell'arte e nella simpatia di Pino D'Angio. Suerte, signor. Grazie, signor. De nada. Grazie. 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 Io che adesso sto sempre nelle boutique, negli occhi, non mi chiamano nessuno e lei mandano i fiori. Uh, sexy. Più sexy. Dammi un po' di più, ti prego. Più sexy. Ti ho sognato e adesso che sei qui. Non ti perderò, lo nego. Così? Faccio quello che vuoi tu. Dimmi, dimmi, dimmi. Dai, slaccia l'altro bottone, più sexy su, aumenta la tensione, sexy su, tocca le caviglie, più sexy dai, guarda tra le ciglia, carezza delle gambe come se non la fossero le tue gote rosse. Au, di più non si può. E sono una parentesi più più grande. E bravo il nostro Pino Langeone.